La lettera apostolica con la quale il Sommo Pontefice iscrive nell'Albo dei Beati il venerabile Servo di Dio Luigi Caburlotto. Io leggerò la lettera apostolica nell'originale latino, voi potete seguirla in italiano nel libretto. Littere apostolice Noi accogliendo il desiderio del nostro fratello Francesco Moraglia, patriarca di Venezia e di molti altri fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi con la nostra autorità apostolica concediamo che il venerabile Servo di Dio Luigi Caburlotto sacerdote diocesano, fondatore della Congregazione delle Suore Figlie di San Giuseppe apostolo infaticabile dell'educazione cristiana totalmente consacrato al Signore nel servizio dei fratelli d'ora in poi sia chiamato Beato e che si possa celebrare la sua festa nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto ogni anno il 7 giugno, giorno della sua nascita Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Dato a Roma l'undi primo maggio dell'anno del Signore 2015 terzo del nostro pontificato Papa Francesco Nostri terzio Franciscus Papa Mentre i fedeli potranno vedere l'immagine del Beato Luigi Caburlotto verrà cantato un canto di acclamazione, il Magnifica e poi ci sarà un inno proprio dedicato al Beato Luigi Caburlotto Mentre inizia il Signore Mentre inizia il Signore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.